Bene, cari e cari studenti di Quinta, come promesso chiudo con questo secondo video, spero più corto del precedente, la correzione degli esercizi che ho proposto nella verifica di prova di matematica. Mancavano da svolgere il sintiero numero 1, il 6, se non mi ricordo male, il 6. Partiamo dall'1, è un esercizio in realtà piuttosto semplice, l'unico motivo per cui l'ho proposto è per riabituarvi all'idea che alle volte i quesiti di matematica intanto contengono magari riferimenti ad altre materie, in particolare nel nostro caso è abbastanza evidente il collegamento a fisica, che è materia fine. Anzi, come diceva Vladimir Arnold, matematica e fisica in realtà sono la stessa cosa, ma anche se non crediamo a una posizione così radicale, è ovvio che in un compito di matematica possono esserci dei riferimenti di fisica, anzi potrebbe essere che quest'anno all'esame di stato conclusivo escano entrambe le materie nella prova scritta, nella seconda prova scritta. Quindi è un po' per riabituarvi a questa idea della connessione e un po' perché è un piccolo esempio, ripeto però piuttosto semplice, di un testo che va in qualche modo tradotto, quindi c'è una fase di comprensione del testo che va tradotta poi in un problema matematico. Quindi la difficoltà, se vogliamo parlare di difficoltà di questo sentiero, era in questa fase di traduzione perché poi viene richiesto di guardare, di studiare una particolare funzione, come vedremo la funzione in realtà è abbastanza immediata. Allora ricordando la legge di Hook, qui chiaramente c'è il primo scoglio che può succedere, che potete trovare ed è legittimo perché comunque le forze elastiche le abbiamo fatte in terza e non è detto che, anzi in seconda e riprese poi in terza, non è detto che ricordiate. Comunque se non ha verifica di prova avete avuto modo a casa di ritrovare la legge di Hook. Quindi abbiamo essenzialmente un corpo collegato a due molle identiche fissate a due punti A e B. Quindi prendiamo il colore bianco, quindi abbiamo due punti A e B e fissiamo un certo corpo a due molle di cui non specifichiamo niente. L'esercizio è puramente teorico, quindi l'unica cosa che diciamo è che sono identiche, quindi possiamo immaginare che abbiano lo stesso coefficiente elastico K. Nell'esercizio non l'ho messo ma noi abbiamo sempre lavorato, quasi sempre con molle di lunghezza nulla, per idealizzare in qualche modo il concetto di forza elastica. Quindi possiamo immaginare che ovunque io metto questo punto le molle siano estese, tranne quando il corpo, appunto materiale, è posto in uno dei due punti di fissaggio o A o B. Trova l'esercizio, prosegue con trova l'espressione della forza totale in un generico punto della retta che congiunge A e B avendo scelto un opportuno sistema di coordinate e concentra il punto medio. Quindi a questo punto il problema è più o meno il seguente. Immaginiamo di scegliere un sistema di coordinate X. Se qui mettiamo il punto di ancoraggio A e qui il punto di ancoraggio B, abbiamo suggerito nel compito di porre il centro di questo sistema di assi cartesiani, in questo caso un asse cartesiano, in questo punto vogliamo studiare l'andamento della forza quando il corpo si trova in uno di questi punti, di questo asse X. Quindi immaginiamo pure di... immaginiamo pure di mettere il corpo, facciamo rosso, vai, così lo distinguiamo. In questo punto, allora le molle, che le faremo arancioni, saranno una questa e l'altra molla, facciamola in verde chiaro, all'incirca così. In questo modo ho perso il centro, che ripeto, prenderemo arbitrariamente in questo punto. Quindi questa è più o meno la situazione. E a questo punto, visto che abbiamo scelto un asse cartesiano, possiamo indicare la posizione del corpo con la variabile X, che sarà positiva se si trova a destra il punto medio o negativa se si trova a sinistra. E possiamo andare a vedere le forze. Il fatto che, diciamo, il corpo è su questa retta che congiunge due punti di connessione delle molle, ci dice che le forze sono sull'asse X. Quindi il problema in realtà non è come normalmente avviene un problema bidimensionale o addirittura tridimensionale con forze considerate come vettori, ma possiamo considerare le forze non più come vettori ma come funzioni della sola variabile X. Positiva se la forza va nel verso positivo delle X, quindi verso destra, e negativa verso sinistra. Quindi il problema si riduce a una sola dimensione scalare. Bene, concretizzando, per quanto riguarda la molla collegata a B, l'allungamento di questa molla è evidentemente, se abbiamo chiamato con D la distanza complessiva tra i due punti A e B, questo allungamento sarà di mezzi meno X. Quindi la forza che subisce il nostro corpo verso destra, in questa configurazione, chiaramente avrà un modulo pari a K volte l'allungamento e che abbiamo detto essere D mezzi meno X. Spero che sia chiaro a tutti e a tutte. Similmente la molla attaccata in A agirà con una forza verso sinistra, che avrà come modulo meno, perché prendiamo un modulo con segno, quindi prendiamo la forza negativa in quanto è opposta verso positivo della serie X, quindi meno K, e la distanza, l'allungamento della molla si vede abbastanza facilmente D mezzi più X. E siccome abbiamo già stabilito il segno di queste due forze, quindi il verso dei vettori è già all'interno delle due forze, possiamo sommarle per avere la forza complessiva, che sarà quindi una funzione della posizione X. Ora però si vede subito che i termini meno K di mezzi e più K di mezzi si semplificano e quindi rimane un meno 2 KX, che è abbastanza semplice come risultato e tutto sommato interessante. Ci dice che l'insieme di queste due molle si comporta come se fosse un'unica molla, però fissata nell'origine e con coefficiente elastico il doppio, una specie di composizione in serie delle molle, un po' come per le resistenze che abbiamo visto recentemente. Cioè recentemente l'anno scorso e ripassato recentemente. Quindi questo è più o meno il risultato. Attenzione, abbiamo scelto però il punto all'interno dei due punti di aggancio A e B. Potrebbe venire il sospetto che se io porto il corpo invece in un'altra posizione, il risultato cambi. E mi lascio come esercizio verificare che questo risultato è identico in tutti i punti del nostro sistema. Quel segno meno nella forza mi dice che è una forza di richiamo verso l'origine. Quindi effettivamente questo corpo uscirà intorno all'origine. Quando è a X positive la forza sarà verso sinistra e quando è X negative sarà verso destra. Quindi la prima parte è fatta. La seconda parte ci chiede di fare lo stesso ragionamento ma sull'asse. Allora anziché metterci in verticale, ridisegno il sistema, mettendo però questa volta i punti di aggancio A e B su... quindi se questo è il nostro asse X, questa volta deve essere l'asse del segmento A e B e quindi metteremo A qui e B qua sotto. E mettiamo sempre qua il punto O. Quindi questa volta la situazione è questa e siamo interessati a trovare la forza complessiva sul corpo disposto lungo quest'asse. Quindi abbiamo scelto di nuovo un sistema di assi cartesiani con l'origine nel centro tra E e B e un verso ben preciso. Ora, come prima, dunque la molla B era gialla, come prima le due molle sono in questo caso, in questo esempio, allungate e potrebbe venire il sospetto che questa volta il problema di nuovo, cioè scusatelo di nuovo, sia invece bidimensionale in quanto le due forze non sono collineari. Ma in realtà è abbastanza immediato verificare che... non lo so, ma perde... questa forza di richiamo e questa forza di richiamo, essendo le due molle identiche ed essendo la figura del tutto simmetrica, e quindi quello essendo un triangolo isoscele, quello che si forma, A, B e il punto che abbiamo detto possiamo parametrizzare con la coordinata X, quel triangolo isoscele, quindi gli allungamenti delle molle sono uguali, quindi quelle due forze in modulo sono uguali. Che cosa significa? Che quando le vado a sommare vettorialmente le componenti verticali si annullano e quindi in realtà entrambe agiscono soltanto lungo l'asse X che ho disegnato. E questa volta vanno nella stessa direzione, scusatemi nello stesso verso. Quindi è una forza di richiamo, qui è abbastanza evidente che è la forza di richiamo anche verso O. Quindi quello che dobbiamo fare è essenzialmente trovare la componente di questa forza E lungo X e la componente di questa forza lungo X che saranno uguali, quindi poi le andrò a sommare. Quindi essendo uguali posso tranquillamente ricavarne una e poi moltiplicare per due. Hanno lo stesso verso. In questo caso per esempio saranno entrambe negative per la X positiva. Allora se questo è di mezzi e questo è X, quello che possiamo dire è che per esempio, vediamo quale ci conviene, quest'angolo qua, lo posso ottenere, la tangente di quest'angolo qua, la posso ottenere come rapporto X fratto di mezzi. Quindi tangente di teta è uguale a X fratto di mezzi. Spero che sia... non so se mi conviene usare la tangente, ma forse sì. No, usiamo il seno. Allora scusate. Questo è un motivo per cui le lezioni andrebbero sempre in qualche modo preparate prima, ma stasera ho avuto problemi, quanto Anna è ovviamente domenica sera, è ammalata e quindi non sono riuscito a preparare adeguatamente. Allora facciamo così invece. Indichiamo questa ipotenusa è il nostro spostamento, quindi l'allungamento della molla e quindi sarà qualcosa del tipo radice di d quadro quarti più X quadro. E allora possiamo dire che l'angolo senteta, ok, moltiplicato per l'ipotenusa è il cateto X. Quindi possiamo dire che senteta è X fratto la radice di d quadro quarti più X al quadrato. In maniera abbastanza semplice, spero di essere stato chiaro. Ma allora la componente della forza, lungo X, chiamiamola Fx, quindi se questa è F, stiamo cercando Fx per ora di una molla sola, poi moltipliciamo 1 per 2, Fx la possiamo individuare come F per il seno di teta. Ma F chi è per la legge appunto di Hooke? È K volte, per ora facciamo il modulo, va bene, il modulo della forza, K volte, che cosa è l'allungamento? Che abbiamo detto essere radice di d quadro quarti più X quadro. E poi però c'è il seno di teta che abbiamo appena visto essere X fratto la radice di d quadro quarti più X quadro. E chiaramente questo e questo si semplifica e viene che la componente X della forza è Kx. Vedete che sopravvive solo Kx. Attenzione però dobbiamo mettere un meno perché è verso negativo, quindi metteremo meno Kx. Qui mettiamo a meno di un segno. Il segno adesso l'abbiamo stabilito. Questa però è una delle due componenti delle due molle, ma le molle sono due, quindi alla fine la forza totale che agisce lungo l'asse X sarà meno 2kx, esattamente come nel caso precedente. Quindi sia lungo l'asse sia lungo la congiungente dei due punti abbiamo ottenuto una forza di richiamo con coefficiente elastico doppio rispetto alle due molle. Bene, questo era l'esercizio, il sentiero 1. Quindi come vedete poi questa forza qua è chiaramente esprimibile rappresentarli graficamente come una retta passante per origine e coefficiente angolare meno 2k. La parte poi di studio non richiedeva niente perché non dobbiamo fare domini, intersezioni, limiti o quant'altro in quanto questa è banalmente una retta con coefficiente angolare negativo passante per origine. Bene, possiamo a questo punto chiudere anche questo video con il sentiero 6. Qui se faccio così, ecco sì, allarga il canvas. Allora anche questo era piuttosto semplice come problema e l'unico motivo per cui vi ho messo una verifica di prova è perché è abbastanza comune che nelle verifiche d'esame di stato non ci siano delle funzioni to cure ma ci siano essenzialmente le funzioni parametriche e una delle prime domande in tantissimi casi, ne abbiamo già visti alcuni e ne vedremo durante tutto l'anno, è determina il parametro in modo tale che la funzione abbia un determinato comportamento. Quindi in questa prima verifica dell'anno chiaramente ho messo una cosa piuttosto semplice. Quindi abbiamo una funzione parametrica cioè che dipende da un parametro reale x quadro meno a fratto x più 1 e ci viene chiesto, vogliamo che questa funzione passi per il punto 0,1. Quanto deve valere a? Allora in questo caso è piuttosto semplice se sostituisco la coordinata x 0, quindi f di 0, che cosa ottengo? Meno a fratto 1, cioè meno a. E noi vogliamo che questo sia uguale a 1. Questo deve essere uguale a questo, quindi a deve essere uguale a meno 1. Quindi la cosa è veramente molto semplice, ma è solo, ripeto, per darvi l'idea che spesso non partiamo nei problemi di esame, ma in problemi generali con una funzione data, ma partiamo con una funzione parametrica e il primo passo è stabilire un parametro. Poi normalmente all'esame, per fortuna, il secondo passo che potrebbe essere lo studio della funzione ci viene detto, avendo dimostrato che il parametro è in questo caso per esempio meno 1, quindi se qualcuno non sa fare il primo punto di solito riesce comunque a non bloccarsi a lavorare sui punti successivi. Quindi dobbiamo a questo punto, seconda parte del problema, studiare la funzione f di x uguale x quadro più 1, perché a era meno 1, ok, fratto x più 1. E questa è una curva algebrica molto semplice, se uno guarda bene si accorge subito che è un'iperbole, perché è una curva di secondo grado in x e y, però non è un'iperbole né una curva omografica né un'iperbole in forma canonica, un'iperbole un po' rotata, ma facciamo finta di non accorgersene, partiamo dal dominio, quindi tutti e quattro i punti, ricordo che stiamo facendo ancora il passo, dei limiti per cui non ancora le derivate. Primo punto il dominio, il dominio di questa funzione è semplice, tutti i valori di r tranne meno 1 che annula il denominatore, quindi da meno infinito a meno 1 escluso e da meno 1 più infinito. Questo ci dice subito che dovremo fare limiti a meno infinito, a meno 1 da sinistra e a meno 1 da destra e più infinito. Bene, dopo il dominio possiamo andare a cercare le intersezioni con gli assi, quindi intersezione assi, in particolare asse x e asse y, l'asse y è sempre più facile, calcoliamo la funzione in 0, la funzione in 0 vale 1, quindi in un grafico provvisorio che possiamo fare nella brutta copia, intanto sappiamo che la funzione passa attraverso il punto sull'asse delle y di coordinata 1. Le intersezioni con l'asse delle x invece saranno date da, essendo questa una, saranno date dall'equazione f di x uguale a 0, essendo questa una frazione, la frazione si annulla quando, si annulla il denominatore, il numeratore, scusatemi, x quadro più 1 uguale a 0, e questo ovviamente mai, in quanto è la somma di un quadrato e di un numero positivo, non può mai fare 0 nei numeri reali, chiaramente. Quindi questa funzione non tocca l'asse delle x. Per quanto riguarda il terzo punto dello studio di funzione, cioè il segno, è abbastanza facile, essendo una frazione dovrei fare lo studio dei segni, ma il numeratore, abbiamo appena visto, è sempre positivo. Quindi la funzione risulterà positiva quando il denominatore è positivo, perché il numeratore è sempre positivo. Quindi per x maggiore di meno 1. Quindi possiamo dire, ah qui me l'ho dimenticato prima, in 1 dovremo fare un foro, l'asse delle x è forato, cioè in 1 non c'è nessun valore possibile della funzione, in 1 la funzione non è calcolabile, e abbiamo appena dimostrato, scusate, ovviamente era meno 1. Quindi adesso devo cancellare tutto questo tratteggio, facciamo prima fare così. Scusate, era meno 1, in meno 1 la funzione non esiste. Quindi qua, quindi qui abbiamo una specie di barriera, c'è una bellissima lieta con Gandalf che dice tu non puoi passare attraverso un assintoto, questo sarà probabilmente, beh, non è detto un assintoto. Quindi meno 1 è l'unico punto dove la funzione non esiste, e a questo punto abbiamo stabilito che per x maggiore di meno 1 la funzione è positiva, quindi posso cancellare la parte negativa dopo meno 1, e questo come vedete è coerente con l'intersezione con l'asse delle y che abbiamo trovato, e quindi se dopo meno 1 è positiva, prima di meno 1 sarà negativa e possiamo andare a cancellare tutta la parte che sta al di sopra dell'asse delle x. I disegni fanno sempre schifo, ma i vostri sono sicuramente più belli. Bene, a questo punto possiamo passare al quarto punto, i limiti, abbiamo già detto che dobbiamo fare meno infinito più infinito e meno 1 da sinistra e da destra. Partiamo dai limiti infiniti, il limite per x che tende a meno infinito, la funzione è x quadro più 1 fratto x più 1, e vediamo subito che questa funzione tende all'infinito perché posso tenere all'infinito i monomi di grado massimo, nei polinomi, e quindi verrà x quadro fratto x, che se semplifica rimane una x, quindi questo fa meno infinito. E' abbastanza immediato anche verificare che questa effettivamente ha un assintoto obliquo con m uguale a 1. Ok? Anzi, l'assintoto obliquo sarà proprio la retta bisettrice del primo e quarto quadrante. Quindi se adesso disegno la retta, facciamo in verdino. Vedremo che poi sarà assintoto anche dopo. Abbiamo che la nostra funzione sicuramente si avvicina a questa retta qua. In questo momento, a questo stadio dello studio di funzione, non abbiamo ancora la certezza che si avvicini stando sopra o stando sotto, anche se potremo ragionare su questa frazione. Ok? Però poi quando avremo le derivate sarà immediato determinare quale delle due possibilità è in atto. Se vado a fare limite a più infinito otterrò più infinito. Banalmente. Quindi me la cavo mettendo un più qua e un più qua. E di nuovo questo è probabilmente un assintoto obliquo e se uno va a verificare con la tecnica che abbiamo visto in classe, ma anche semplicemente dicendo all'infinito questa funzione si comporta come x. Quindi come la bisettrice. Vedete che all'infinito questa funzione è all'infinito si comporta sinteticamente come x. Perché trascuro il più uno sopra e il più uno sotto e viene il quadro fratto di x come x. quindi mi aspetto che questo sia l'assintoto. Quindi qualcosa del genere. O passa da qua o passa da qua sotto. Adesso possiamo andare a vedere i limiti a meno uno da sinistra e da destra. È abbastanza evidente quali sia il risultato. Limite per x che tende a meno uno. Iniziamo da sinistra. x quadro più uno fratto x più uno. Il numeratore tende a due. Perché c'è un quadrato. meno uno al quadrato fa uno più uno fa due. Il denominatore tende a zero. Però ha uno zero leggermente più piccolo di zero. Quindi negativo. Quindi questo limite è meno infinito. Questo significa che questa funzione da questa parte, quando tende a meno uno da sinistra, va giù. Quindi potrebbe essere un andamento del tipo così. Però questo andamento, ripeto, non siamo ancora autorizzati a farlo finché non avremo anche le derivate. Dall'altra parte, quando vado a più bianco, più infinito, a meno uno scusatemi da destra, sopra tende ancora a due, sotto tende ancora a zero, però questa volta ha uno zero positivo e quindi avremo più infinito. Quindi quando mi avvicino a uno da a meno uno da destra, andrò più infinito. E, d'altra parte, questi due risultati sono compatibili con il segno della funzione che ho già studiato. E quindi anche qua, boh, cosa potrà fare questa funzione? Deve scendere, passerà per uno e poi dovrà andare assintoticamente verso l'assintoto. Quindi posso immaginare un andamento, se la funzione non è particolarmente strana, un andamento di questo tipo che effettivamente ricorda un'iperbole rotata però. Come vedete abbiamo due rami e due assintoti e questo sarebbe il, ripeto, fa schifo, ma questo sarebbe il centro dell'iperbole e quindi due vertici si troverebbero su la bisettrice di queste due rette. Va bene, ma fin qua è tutto quello che più o meno possiamo dire. Stiamo studiando adesso le derivate, quindi fra poco potremo fare questo tipo di studio di funzione in maniera molto più completa e definitiva. Per ora è tutto, il video è venuto comunque troppo lungo rispetto a quello che avevo programmato. Ve lo invio e decidete voi cosa farne. Per ora vi auguro una buona notte e un buon rientro di settimana. Arrivederci!